Aggiornare amministratori ma anche geometri e dottori commercialisti sulle mutevoli e complesse tematiche tecnico-fiscali riguardanti la gestione del condominio. Questo è l'obiettivo del Fiscality Day, convegno promosso presso la sede locale del Politecnico da Anaci Lecco, l'associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari insieme alle territoriali di Bergamo, Como, Monza e Sondrio e in collaborazione con l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco. L'obiettivo di questa iniziativa, che è molto importante perché raggruppa tutte le province che sono limitrofe alla nostra di Lecco, quindi cinque province presenti oggi in questa prestigiosa cornice di cultura, di innovazione e di tecnologia, ha l'obiettivo di, attraverso il nostro tesoriero nazionale che sarà il maggior relatore della giornata, di raccontarci anche le novità di questa finanziaria e quindi le incombenze che gli amministratori di condominio purtroppo, ahimè, debbono affrontare nella loro attività quotidiana. Ecco, quali sono alcune di queste difficoltà che tutti i giorni incontrate, in particolare sul frangente della fiscalità? È un male noto in Italia che le leggi continuano a cambiare, non si hanno delle certezze anno su anno, per cui è doveroso svolgere attività di formazione come quella che facciamo noi a Danacilecco per rimanere aggiornati su tutte le novità fiscali che purtroppo, ahimè, sono tantissime e si cambiano con troppa frequenza per essere assimilati dai nostri associati. A proposito di formazione, sono sempre tante iniziative che organizzate. Sì, soprattutto per chi vuole intraprendere questa professione. Partirà a gennaio un corso molto importante che terremo noi di Danacilecco, chiunque può iscriversi andando direttamente sul nostro sito che è anacilecco.it. Speriamo che siano numerosi come gli scorsi anni e che la nostra professione sia sempre più diffusa anche nel nostro territorio. Il ruolo nuovo, se vogliamo, da amministratore di condominio è un ruolo più sociale all'interno degli stabili, quindi cercare di dirimere i contenziosi prima che questi scaturiscano e sfoccino poi in cause legali. Quindi Danacilecco sta lavorando molto per formare i propri associati per riuscire a calmirare quelle che sono le normali tensioni che avvengono in condominio cercando di mantenerle su livelli accettabili. Partiamo innanzitutto dal significato di questa giornata. Il significato è un significato importantissimo perché mette in evidenza l'importanza dell'associazione, della Naci, che è strutturata su tutto il territorio nazionale, che a Lecco è ben rappresentata, che è da 40 e passa anni al primo posto su quello che è l'istruzione e la cultura in materia condominiale. In questo, come dico sempre io, ha anticipato il nostro legislatore che si è reso conto che l'amministratore di condominio ha bisogno di essere istruito, ha bisogno di fare cultura, l'ho capito solo quattro anni fa con il DM 140, mentre prima non se ne rendeva conto. È una professione diffusa su tutto il territorio, è una professione che coinvolge il 75% degli italiani perché tanti sono quelli che vivono in condominio per cui è importantissimo che anche oggi si faccia lezione su questa materia. Siamo qui a questo evento perché crediamo fermamente che sempre, ma in particolare in un periodo, in un tempo come quelli che stiamo vivendo, di rapida evoluzione, non ci si possa improvvisare ma la conoscenza, la competenza, la specializzazione siano sempre di maggiore importanza, di fondamentale importanza. Dunque il nostro ordine si è messo a disposizione per trasmettere le conoscenze che abbiamo proprio a questo fine, noi intendiamo come un servizio che svolgiamo alla collettività, sostanzialmente penso la maggioranza delle persone che vivono in un condominio, è bene che i condomini vengano ben gestiti anche da un punto di vista fiscale e quindi noi ci siamo messi a disposizione, partecipiamo a questo evento per contribuire alla crescita culturale anche degli amministratori di condominio ma per il benessere direi, per il bene di tutto il paese. Tanti quattrini, tanti denari girano anche nei condomini e quindi è bene che siano ben amministrati anche da un punto di vista fiscale. Mi piaceva portare un ritorno nei confronti di tante tematiche portate dall'amministrazione comunale, quali la loro presenza al tavolo della casa, quali anche il progettare, il sognare in grande su quello che potrebbe essere il condominio sociale. Lo so che è un tema grandioso ma se non si sogna e non si progetta in grande mai si arriva. Quindi un ringraziamento per l'interlocuzione su questi temi e anche più minutamente sui grandi temi che possono essere il contenimento energetico o anche ancora più semplicemente ma molto costruttivamente è quello che è la loro mediazione per quel che riguarda anche le grandi novità sulla gestione dei rifiuti e questi temi qua. Più di 200 i professionisti che hanno partecipato al convegno che ha approfondito gli adempimenti fiscali dell'amministratore di condominio ma ha trattato anche altri importanti temi come le novità nella gestione dei rifiuti dal nuovo sacco multileggero alla tarifazione puntuale. Sì, buongiorno. Diciamo che in ambito condominiale ormai la fiscalità ha assunto un ruolo e un posto di tutto a rilievo. Questo diciamo a partire sostanzialmente dalla finanziaria nel 1998 quando il condominio è rientrato nei soggetti così definiti come sostituti d'imposta. Poi via via negli anni sono visti aumentare gli adempimenti e da ultimo sempre più adempimenti specifici che riguardano il condominio. Il 2007 è un'altra tipologia di ritenuta da conto che riguarda espressamente il condominio. Ad oggi modalità di pagamento specificamente previste per il condominio per determinate tipologie di fatture. Importante e poi importantissimo nell'ambito della fiscalità condominiale è rimasto sicuramente tutto il comparto delle detrazioni fiscali sia per le ristrutturazioni edilizie sia per le riqualificazioni energetiche. Argomento che in ambito condominiale ha sempre avuto un ampio riflesso, un ampio impatto. Ad oggi in continuo divenire in parte norme che sono divenute nel frattempo a regime in generale per le ristrutturazioni edilizie ancorché comunque di anni in anno si sono soggettate a nuove variazioni, nuove modifiche. Altri, come tutto con parte delle riqualificazioni energetiche, argomento molto importante, non ancora regime, che comunque con la finanziaria, con la legge di bilancio 2017 ha visto delle normative specifiche per l'ambito condominiale, quindi un arco temporale maggiore e delle possibilità di usufruire di aliquote di detrazione maggiore, nonché tutto il discorso della cessione del credito che è sicuramente importante, tutta da vedere, da verificarsi nei prossimi anni, quale impatto avrà effettivamente su questo, sul successo, sullo sviluppo, sulla diffusione di queste detrazioni che sono molto importanti anche per i riflessi che hanno poi in terminatura economica di fabbisogno energetico, riduzione delle importazioni, corrispondenza, vali in protocolli, se europei che no, e quant'altro. Il convegno della NACI non si parla solo di fiscalità, si parla anche di rifiuti con un'importante novità che riguarda la raccolta della carta. A che punto siamo? Siamo a un buon punto. Alcuni quartieri del Comune di Lecco sono già partiti con la raccolta della carta separata e l'obiettivo nostro è dal 1 gennaio 2018 partire con tutti i comuni della provincia di Lecco. Stiamo aspettando che ci arrivino i contenitori gialli da distribuire a tutti i comuni che poi questi contenitori vengono distribuiti ai cittadini. Per i condomini è importante il fatto che c'è la possibilità di avere un contenitore più grande. Sì, abbiamo fatto questo accordo con la NACI Lecco dove verrà fornito ai condomini un contenitore da 360 litri per poter mettere la carta. Per quanto riguarda invece il cartone e gli imballaggi più voluminosi? Gli imballaggi voluminosi e il cartone possono essere messi separati a lato del contenitore giallo e verranno raccolti ulteriormente. Se qualcuno ha un quantitativo di carta grande da smaltire può metterlo all'interno dei cartoni e verrà smaltito assieme al contenitore giallo. Ultima cosa, come si è arrivati alla decisione di raccogliere separatamente la carta e il cartone? Non è una decisione di Silea fa parte di una normativa europea e nazionale dove prevede con un accordo ANCI-CONAI che la raccolta differenziata effettuata col sacco multipesante può più entrare nei centri di raccolta quindi bisogna per forza separare le due componenti. Altra novità che state sperimentando è quella relativa alla tarifazione puntuale. Sì, in realtà l'abbiamo già sperimentata ha dato dei risultati mediocri ma proprio per questo motivo abbiamo fatto in modo che con il nuovo accordo con i comuni quindi l'affidamento fino al 2029 già dal 2019 i comuni possano decidere di partire a nuclei evidentemente non inferiore ai 20.000 abitanti con questa tarifa puntuale. I mezzi sono già attrezzati per tale attività, per tale configurazione l'obiettivo è evidentemente quello di andare ad aumentare quella che la raccolta differenziata quindi dal 60,6 arrivare alla fine del 2029 con un 75%. Quei possono essere i vantaggi per la popolazione? È chiaro che tutto ciò che viene differenziato anche lui ha un costo perché le raccolte devono essere effettuate in modo adeguato però tendenzialmente si dovrebbero ridurre oggettivamente quelli che sono i rifiuti che vengono mandati al termovalorizzatore o comunque a smaltimento.